Fino al 6 marzo la biblioteca della regione Piemonte prosegue Cimeli dal fronte, gli oggetti che parlano della grande guerra. In esposizione gli equipaggiamenti e le armi dei soldati italiani e una piccola parte di oggetti appartenuti al nemico, i soldati austriaci tedeschi. Nella galleria Belvedere di Palazzo Lascari si è allestita fino al 9 marzo Tu cancro, io donna, ammalarsi di femminilità. Mostra fotografica promossa in collaborazione con Andos, associazione nazionale Donne Operate al Seno.